Esther Lunardon, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta davvero qui nel posto delle parole per condividere il saggio intitolato Comunque nude. La rappresentazione è femminile nei monumenti pubblici italiani. Il saggio è a cura di Esther Lunardon e Ludovica Piazzi, pubblicato questo libro dalla casa editrice Mimesis nella collana Eterotopie. Leggo in quarta di copertina che Esther Lunardon, archeologa, lavora nei cantieri edili per scavi e assistenza archeologica e oltre ad articoli specialistici divulgativi ha pubblicato la monografia e la tecnologia ceramica tra prima e seconda età del ferro, il caso di Castion di Erbe nel 2018. Ora partiamo da questo per poi arrivare ovviamente al saggio Comunque nuda. Esther Lunardon, archeologa, lavora nei cantieri edili per scavi. Che cosa significa oggi lavorare in quei cantieri? Allora, ci tengo a sottolineare una cosa. Io sono appunto solo una delle due curatrici, ma poi soprattutto sono solo una delle otto persone che hanno contribuito a scrivere questo libro, che oltretutto è frutto di un lavoro ancora più collettivo. Molto collettivo. Sì, svolto all'interno di un'associazione che appunto mi riconosce. Siamo persone che lavorano tutte nell'ambito dei beni culturali, con però professioni diverse. Appunto io sono archeologa, nel gruppo ci sono storiche dell'arte, bibliotecari, archivisti, restauratrici, educatrici museali. Quindi ecco, c'è una grande varietà di professionalità e anche di formazioni. Ecco, nel mio caso sono archeologa. E qual è stato il suo ultimo compito per quanto riguarda l'archeologia, Esther Lunardon? Io appunto lavoro nei cantieri edili, quindi quando deve essere costruito qualcosa, per qualsiasi motivo si deve fare degli scavi. Io sono a fare assistenza stesso, quindi a controllare che non vengono distrutti dei resti antichi. Ecco, mi faccio capire, lei lavora nei cantieri edili, cioè a dire, se si decide, mi scusi Esa, la metto un po' in maniera semplice, se si decide di costruire un palazzo, ovviamente sì, si scavano le fondamenta. Allora in quel momento arriva Esther Lunardon e che fa e che dice? Sì, diciamo che è la superintendenza, quindi l'ente pubblico che valuta il rischio archeologico a seconda di quello decide che tipi di vincoli porre. Quindi spesso un archeologo, anzi più spesso sono archeologhe donne a sorvegliare i lavori. e quindi siamo lì a guardare la ruspa banalmente, l'escavatrice e il procedere dei lavori. E il procedere dei lavori, non come i pensionati con le mani dietro la schiena, ma in maniera molto molto attiva. Con un po' più di responsabilità. Con un pochino più di responsabilità, ovviamente, perché è una responsabilità rivolta al passato per tutelare i patrimoni storici, ma anche una responsabilità rivolta al futuro. Comunque nude, la rappresentazione femminile nei monumenti pubblici italiani. Anzitutto ci ha incuriosito molto questa ricerca dedicata a come la figura femminile viene rappresentata nei monumenti pubblici. E a proposito di monumenti, a proposito di opere d'arte, Esther Lunardon ci racconta l'immagine di copertina? L'immagine di copertina, in effetti ci teniamo molto. Si tratta di un'opera che sta a Scandicci e raffigura una coppia. E sarebbe un'opera dedicata a Dino Campana, che in questo caso lo scultore, che è Valentino Moradai-Gabrielli, ha deciso di raffigurare assieme in coppia con una figura femminile, che si può identificare in vari modi, ma che è Sibilla Aleramo, con cui Dino Campana ebbe una relazione. E noi abbiamo deciso di mettere quest'opera in copertina, anzitutto perché era una delle poche belle, anche proprio esteticamente, come fattura. E poi anche perché rappresenta un dialogo, cioè una coppia, un uomo e una donna. E qui andiamo adesso a toccare con mano questa esperienza molto particolare, attraverso i monumenti italiani, tra l'altro c'è anche una geografia dei vari monumenti divisi regione per regione per farci vedere, toccare con mano, uso ancora questa definizione a proposito dei monumenti dedicate alle donne. La rappresentazione delle donne è questo libro e quindi è una rappresentazione che ci apre uno sguardo diverso, alza dei veli e non è semplicemente una cultura figurativa, no? È anche una cultura e un modo di essere di uno Stato. Ora, attraverso questo saggio noi possiamo capire anche la storia d'Italia, Esther Murnardone. Sì, noi abbiamo svolto questa inchiesta cercando di mappare, censire tutti i monumenti pubblici dedicati a figure femminili appunto in Italia. E questo dalla fine dell'Ottocento a praticamente l'ottobre del 2022, quando abbiamo chiuso le prime bozze di questo libro. Il risultato è appunto una serie di monumenti, sono in totale 288, quelli che abbiamo censito, che in un qualche modo danno un'immagine della donna anche nella sua evoluzione nel tempo appunto. Abbiamo visto che anche la concezione stessa di monumento è cambiata molto dall'Ottocento agli ultimi due decenni. Abbiamo visto anche come sempre meno sia il pubblico a fare da committente per queste opere e come siano opere appunto difficili ormai, le ultime da definire monumenti. Tante sembrano pensate più che altro per essere instagrammabili. Che cosa vuol dire che tante possono essere pensate come prodotto che va poi su Instagram, Esther Murnardone? Nel senso che anche a detta delle committenze vengono spesso ideate per promuovere il turismo in una determinata area, in una determinata località. Ci fa un esempio? Alla spigolatrice di Sapri, forse è il caso che ha creato anche un po' più di dibattito pubblico. È stata inaugurata nel settembre 2021 e appunto nelle dichiarazioni della committenza si tratta di un'opera per celebrare anzitutto questa figura che appunto ricordiamo è citata nella famosa poesia di Mercantini sulla spedizione di Pisacane. Quindi un evento del risorgimento italiano, ma anche per promuovere il turismo a Sapri. Di fatto si tratta di una scultura che è molto presente su Instagram che è finita per fare da sfondo a queste foto in cui spesso poi le persone le toccano il sedere perché questa spigolatrice è rappresentata in un modo tale da essere fortemente sessualizzata con questa veste sottilissima che le aderisse in particolare al sedere. Per cui si tratta poi di fatto di un feticcio, come spesso accade in questi casi, di un corpo femminile iper sessualizzato e reso oggetto. Ora andiamo proprio nel linguaggio espressivo dell'arte, qui la parola arte è una parola veramente da utilizzare in senso lato, ovvero il linguaggio per rappresentare il femminile nei monumenti è un linguaggio che passa spesse volte, non solamente dalla spigolatrice di Sapri come ci ha detto lei poco fa, passa spesse volte proprio anche dalla parola del sesso. Perché è necessario rappresentare la figura femminile sessualizzata? Questo ce lo chiediamo anche noi, un po' quello che si nota guardando queste opere, cioè sembra che una donna per avere il merito di essere presente, rappresentata nello spazio pubblico debba essere nuda, debba essere bella, debba essere giovane, ma questo non lo si nota solo attraverso i nostri monumenti pubblici, è un qualcosa che riguarda molto più in generale il linguaggio massmediatico, lo vediamo in televisione, lo vediamo sui social, è fondamentale per le donne molto più che per gli uomini avere un determinato aspetto fisico e questo aspetto fisico è sempre molto bene messo in evidenza. Mi piace fare l'esempio della fontana dedicata alle giornaliste Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutoli in provincia di Viterbo, è una fontana in cui queste due giornaliste, morte tra l'altro mentre svolgerono il loro lavoro in tempi recenti, sono rappresentate nude e questa è una cosa che ci fa riflettere, perché dovevano essere rappresentate nude, riusciamo a immaginarci ad esempio Montanelli nudo, la strada di Montanelli a Milano nudo come giornalista perché c'è un problema di sessismo evidentemente. Sì, c'è un problema di sessismo e di mancata rappresentazione anche della donna in questi monumenti perché lei scrive mettendo insieme Roma, Napoli, Milano, Torino, Firenze, Bologna, Bari, Palermo, Cagliari e Venezia arriviamo a un totale di 22 monumenti di cui solo 10 sono veri e propri monumenti. Ecco, già tocchiamo con mano quant'è la povertà espressiva nei confronti delle raffigurazioni femminili e quindi questo è già un toccare con mano come la storia venga raccontata al maschile con grande incapacità da parte di chi la racconta di entrare nel merito della storia stessa, perché la storia non è appannaggio dei soli uomini o delle soli donne, la storia appartiene a tutti. Sì, il dato che emerge per primo è proprio quello dell'assenza, c'è proprio una sproporzione numerica tra le raffigurazioni femminili e quelle maschili, noi non sappiamo quante siano quelle maschili e non le abbiamo censite, però sicuramente c'è questa sproporzione. Però noi abbiamo subito tenuto a sottolineare che quello che ci interessa di più è proprio come vengono rappresentate queste figure. Il giorno dopo che abbiamo pubblicato i dati dell'inchiesta, ad esempio il sindaco di Firenze Nardella uscì pubblicamente dicendo che avrebbe inaugurato 5 nuove statue di donne a Firenze e poi si susseguirono tutta una serie di altre proposte in altre città, volte a mettere delle nuove statue raffiguranti donne. Ecco, questo è un approccio che però non è secondo noi, non rappresenta secondo noi una soluzione del problema, nel senso ci teniamo a specificarlo nel libro, non è che vogliamo le quote rosa nei monumenti. È molto più interessante soffermarsi a vedere come sono rappresentate queste donne, anche perché il problema del sessismo è molto più ampio, coinvolge la cultura in senso lato e non si può risolvere erigendo dei monumenti secondo noi. E oggi, dicendo monumenti, oggi se noi volessimo, se si volesse un pochino ripristinare la situazione, metterci in pari per così dire, che cosa si potrebbe fare oggi come oggi che la parola monumento forse è un po' da ripensare anche dal punto di vista artistico? Sì, questo è vero e soprattutto vediamo che l'arte, quando è veramente tale, riesce poco a celebrare, quindi a fare quello che dovrebbe fare un monumento, fornire dei modelli univoci, inequivocabili e anzi l'arte tende più spesso a problematizzare, a far pensare, a far sviluppare il senso critico e anche per questo abbiamo messo in copertina questa scultura, perché appunto non è un monumento in senso tradizionale, ma è un'opera molto più aperta all'interpretazione e quindi secondo noi l'arte, l'atto artistico anche come performance, non per forza come opera che si materializza in bronzo o in marmo, deve avere un ruolo importante, ma più che altro nel far sviluppare un senso critico, non per forza nel fornire dei modelli appunto eterni, univosi. Sì, per sviluppare un senso critico, ma è qui sta un po' il busilli, Sester Ronardon, oggi per sviluppare il senso critico, francamente non è che ci manca un po' la cassetta per gli attrezzi? Sicuramente in un settore della cultura così definanziato, che fa così tanta fatica a funzionare, anche nella scuola che è così definanziata, in un certo senso è vero che siamo rimasti un po' senza strumenti, però se non è questo lo scopo della cultura noi non vediamo quale altro possa essere, sicuramente non è la celebrazione in senso astratto della bellezza o non è il profitto derivato dai proventi del turismo, secondo noi. Sester Ronardon, se guardiamo nel passato, le figure femminili nell'arte, vengono rappresentate da un punto di vista sessista, viste con lo sguardo di oggi ovviamente, rispetto alla raffigurazione dell'uomo? Sì, questo è interessante, una delle obiezioni che vengono fatte più spesso al nostro lavoro, è proprio questo basarsi sulla tradizione, i nostri musei, le nostre pinacoteche sono pieni di nudi femminili e questi vengono definiti appunto artistici e in quanto tali indiscutibili, intoccabili e c'è un saggio appunto della mia collega Ludovica Piazzi proprio su questa sessualizzazione nell'arte, perché in realtà la sessualizzazione del corpo femminile è qualcosa che non è di adesso, ma è un po' sempre fatto, tra l'esempio forse che è quello più diffuso della raffigurazione di Susanna e i vecchioni, in cui noi pensiamo i committenti si facevano fare questi dipinti che raffiguravano Susanna nuda con i vecchioni da tenersi in casa, non tanto perché l'episodio biblico avesse chissà che speciale valenza di fede o ideologica, ma appunto perché avevano piacere ad avere un corpo femminile nudo in casa e cioè quello che Ludovica poi spiega molto meglio di me è appunto che non per forza l'arte va intesa come qualcosa di intoccabile in quanto tale. Vorrei toccare, esterno ad ogni, il tema dei monumenti femminili per quanto riguarda l'azione delle donne che vengono raccontate, insomma, sembra che la donna venga rappresentata in questi spazi pubblici sempre intenta alle attività, quelle che sono, virgolette, attività femminili. Sì, abbiamo visto che molto spesso i soggetti rappresentati sono figure anonime collettive e quindi ad esempio mogli, madri o lavoratrici che facevano lavori molto umili, ad esempio le lavandaie sono moltissime sulle nostre strade, sulle nostre piazze. raramente si tratta di figure che fanno qualcosa che non abbia a che fare con la cura e con il sacrificio di sé. Eh sì, il monumento per esempio alla donna d'acqua sul lungomare di Bari che è stato realizzato pochi anni fa porta un'iscrizione di grande interesse e dice alla donna d'acqua, simbolo della donna universale, che dona luce all'uomo, alla sposa custode del focolare delle antiche memorie, alla mater amorosa che lo conforta nei momenti più cupi della vita, che lo sostiene nelle sue diuturne fatiche e lo incita alle grandi imprese e così via. Ora, una donna consolatoria scopriamo. Certo, sappiamo benissimo che alla donna è stato tradizionalmente dato questo ruolo, forzatamente anche, però proporlo al giorno d'oggi come un modello è quantomeno anacronistico, cioè la donna come appunto colei che nutre, colei che supporta le azioni degli uomini, della famiglia, colei che fa quel lavoro di riproduzione sociale che però non può fare nient'altro. Eh sì, non può fare nient'altro e poi succede anche che a proposito di cosa fanno le donne rappresentate, per esempio possono anche fare le sportive, il caso di Marta Bassino. Marta Bassino è una campionessa olimpica, una sciatrice, viene fatto il monumento a lei dedicato in una rotatoria all'ingresso delle valli in provincia di Cuneo e l'intento è quello di sfruttare l'immagine di questa giovane atleta per pubblicizzare il territorio a fine turistici. Quindi è stata espressa apertamente dai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti all'inaugurazione, tranne dalla campionessa. Ora, questo dice che a volte anche le persone interessate, in questo caso Marta Bassino, non è stata coinvolta nella rappresentazione di quello che effettivamente avrebbe dovuto essere questo monumento. Sì, in questo specifico caso non so esattamente come siano andate le cose, però sicuramente c'è sempre uno sfruttamento in qualche modo del corpo femminile con finalità che hanno ben poco a che fare con l'individualità del soggetto, con la volontà del soggetto. È uno di quei casi che dicevo prima, molto frequenti negli ultimi 10-20 anni, di opere che hanno come scopo quello di promuovere il turismo e in ultima istanza di fare dei favori a delle specifiche aziende, a delle specifiche attività imprenditoriali del territorio. E questo lavoro, ricordo che è stato realizzato per raccontare i monumenti femminili in Italia comunque nude, il titolo di questo saggio, la rappresentazione femminile nei monumenti pubblici italiani a cura di Esther Lunardon e Ludovica Piazzi, tra l'altro Ludovica Piazzi, lo ricordo ricercatrice in storia dell'arte, si è occupata di quadratura e stampa, collaborando diversi progetti di catalogazione, tra cui l'Atlante delle xilografie italiane del Rinascimento e per l'associazione Mi Riconosci ha curato il censimento dei monumenti pubblici femminili. Esther Lunardon, chi manca nella rappresentazione femminile? Quali sono le assenze importanti delle figure? È una domanda difficile perché si fa sempre torto a qualcuna, mancano talmente tante che non è possibile fare un elenco. Posso citare solo alcuni nomi che mi vengono in mente, ad esempio Elsa Morante, Nilde Iotti, Trotola de Ruggero, Adarossi, Tina Anselmi, però più che l'assenza, quello che emerge di più da questo lavoro è proprio come queste donne vengono rappresentate. Noi non sappiamo se sia attraverso delle opere pubbliche che la rappresentazione femminile può migliorare proprio il livello di percezione comune, però sicuramente ci sono delle assenti a cui queste opere pubbliche non fanno onore. E ricordiamo anche coloro le quali hanno curato questo saggio insieme con Ludovica Piazzi, Esther Lunardon, ovvero con i contributi di Alexandra Forcella, Maria Baruffetti, Celeste Massarotto, Cristina Chiesura e poi troviamo Rosanna Carrieri e Federica Pasini. Spero di non aver dimenticato nessuno per questo libro, comunque nude, pubblicato da Mimesis, ma prima di salutarci, Esther Lunardon, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni stavo leggendo proprio Simone de Beauvoir, Il secondo sesso. È un grande classico che però volevo recuperare perché mi mancava ancora. Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, lo ricordo, è stato pubblicato proprio pochi anni fa, ripubblicato proprio pochi anni fa dalla casa di Tucci, il saggiatore con Il secondo sesso. E per chi non conoscesse questo libro, che cosa racconta Esther Lunardon? L'analisi di questa grande pensatrice su che cosa significa essere donne, e questa è un po' la domanda fondamentale sull'identità femminile passando dagli anni dell'infanzia, della formazione e per arrivare poi a descrivere anche le situazioni del quotidiano e che impatto queste possono avere nella creazione appunto dell'identità a livello individuale e collettivo. Ed è un libro che entra proprio nel modo di affrancare la donna dallo status di minore che la obbliga a essere l'altro dell'uomo e quindi con queste parole rientriamo di nuovo nel suo saggio comunque nude perché c'è un attraversamento anche di pensiero, vero? Certo, il tema del femminismo è il collante. Grazie davvero Esther Lunardon e buona giornata. Grazie a lei.